ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato alle disquisizioni caotiche disquisisco caoticamente cioè mi metto a blatterare di qualcosa a caso proprio perché voi mi chiedete mi triggerate mi dite mi fornite lo spunto e io disquisisco parlo parlo a vanvera di cose che nemmeno so io hai capito proprio così proprio tanto per la simpatica rubrica che a volte viene bene a volte viene male speriamo che venga bene come si suol dire l'orologio del giorno è il mio orient vaco è condizione limitata per il ventesimo anniversario con il suo bellissimo vetro zaffero il quadrante blu e para ponzi ponzi pu un bello orologino che ci piace utilizzo per andare al mare in alternativa al long jean skin diver omega simaster 300 loris diver 65 insomma tutti questi il long jean skin diver l'ho già detto e legend diver anche c'erano due due long jean vabbè dai bando i discorsi che se no mi incarto troppissimo le domande sono qui e adesso noi partiamo con le domandine kevin villa conosce gli orologi paul rich è un brand valido e no non è un brand valido paul rich è il classico orologio da centro commerciale da profumeria fashion watch per lo più quarsi che non hanno alcuni valori di pregio proprio niente proprio da dimenticabili orologi dimenticabili coating thickness conviene scegliere un orologio con movimento sellita sv200 o miota serie 9000 che minchia vuol dire conviene scegliere uno o l'altro conviene cos'è conveniente perché deve essere conveniente io scelgo l'orologio che mi piace l'involucro che mi piace poi se c'è dentro il calibro sellita sv200 o miota della serie 9000 cambia poco mi cambia poco a livello di performance di vita della mia vita non mi interessa che se c'è uno l'altro non scelgo l'orologio in base al calibro questo è poco ma sicuro scelgo l'orologio in base a l'aspetto estetico alle caratteristiche tecniche sì ma insomma ho uno l'altro quindi non capisco proprio questa domanda che comunque vabbè lascia il tempo che trova frank titas che significato hanno i tatuaggi per te queste sono informazioni strettamente riservate che non posso divulgare ti basti sapere che i miei tatuaggi hanno un significato per me per te non ce l'avranno per me ce l'hanno magari se ci incontriamo quattro occhi davanti a una birra ti posso anche raccontare qualcosa ma certo non così che non ti conosco non so chi sei ti vengo a raccontare gli fatti miei e no christian tagliaferri cosa ne pensi degli orologi bearing vedi sopra paul rich bearing anche questi qua sono orologi da profumeria da centro commerciale da bancarella che non hanno alcun senso tutti al quarto 200 euro di orologi messi lì fatti da da catalogo dai ragazzi perché perdere perdere tempo con questi orologi qua quando c'è molto molto meglio roby 10 perché hai pochi rapporti con gli altri youtuber perché per mia scelta preferisco non collaborare con nessuno ho iniziato un anni fa a collaborare a dare confidenza a un paio poi sono rimasto fregato quindi ho detto sarà meglio che non do più confidenza a nessuno io ho i miei principi sono abbastanza schietto dico come la penso e anche se ci troviamo a quattro occhi dico come la penso mi sono trovato in situazioni nelle quali le persone questi che dici tu magari bu la pensavano in un modo poi voltavano gabbana e la pensava in un altro si adattavano alle situazioni diciamo no sono abbastanza malleabili si adattano io non mi adatto se è nero e nero se è bianco e bianco e continuo a dirlo capito gianni 69 ciao davide grazie per la possibilità vorrei il tuo parere sul nuovo venezianico bella notte venezianico bella notte venezianico bella notte è un orologio che per me parere mio personale no proprio veramente opinione personale non ha senso non ha senso perché è un orologio con il piccolo quadrante decentrato e quando si fanno questi orologi qua con il quadrante decentrato solitamente si fanno per mettere in evidenza una certa capacità tecnologica ossia il calibro comprende di manifattura solitamente di architettura proprietaria comprende è grande come la cassa e poi il quadrantino viene spostato tramite dei rimandi delle soluzioni tecniche pensate ingegnerizzate viene spostato di lato in questo caso non l'hanno fatto in questo caso hanno preso un calibro un seico nh 05 che sono quelli che si utilizzano negli orologi da donna piccolo piccolissimo e praticamente il quadrantino che vedete spostato corrisponde alla grandezza del calibro cioè il quadrantino è sotto c'è quel calibro tutto il resto è vuoto solitamente lo spazio che invece rimane si utilizza per delle complicazioni per delle soluzioni tecniche innovative aggiuntive no ma anche poi per essere decorato in questo caso è tutto vuoto e viene solamente decorato ora fatto bene fatto male non lo so non l'ho mai avuto tra le mani però è proprio sbagliato il concetto ci sono certi origini a glassutte alta orologeria o maurice la croix di manifattura che è un po meno che però seguono quel principio lì cioè spostare il quadrante di lato con dei rimandi ma il calibro è quello di manifattura grande capito quindi per me questo orologio non ha senso per questo motivo qua pavel franosi quando ci fai vedere la tua collezione di orologi la mia collezione di orologi c'è basta accedere alla sezione dedicata agli abbonati drake se dovessi indossare solo un brand di orologi quale sceglieresti omega io sono un fanboy omega quindi se mi puntassero una pistola alla tempia e mi dicessero devi scegliere solo un brand omega così proprio spazio degli acquaterra e de villa e se master e speed master cioè per tutti i gusti proprio me li date gratis perché se mi obbligate a scegliere un marchio solo però me li date gratis poi è lorenzo 93 ciao davide vorrei sapere la tua opinione sui crono con minuti cronografici coassiali ai secondi per esempio orologi che incassano in le mani a 5100 e come mai sono offerti da pochissimi brand ecco come mai sono offerti da pochissimi brand non lo so probabilmente l'accesso a questo calibro che è difficoltoso non so nemmeno se è ancora in produzione però sì mi piace mi piace l'idea della lancetta cronografica dei secondi che è coassiale a quella dei minuti nel momento in cui si fa partire il tempo parte sia quella dei secondi che quella dei minuti e così possiamo vedere al colpo d'occhio minuti e secondi che sono passati mi viene in mente certi certi fortis ce l'hanno certi sin addirittura adesso non so se usano questo calibro qua però sì mi piace l'idea mi piace melted cube orologi tra i 700 e i 2000 euro possono essere considerati piccoli investimenti questa è una gran puttanata perché gli orologi non sono investimenti l'investimento è con la parola investimento si intende un investimento a orizzonte temporale medio e lungo ossia nel medio e lungo periodo è sicuramente un guadagno di danaro o ci sono degli strumenti finanziari che permettono di fare quello cioè che nei 10 15 anni gli orologi non lo sai non lo puoi sapere non è detto io investo investo negli strumenti finanziari e poi con quelli che guadagno li sperpero negli orologi quindi negli orologi si sperperano i soldi non si investono i soldi poi ci può essere quello fortunato che l'ha preso e dopo 40 anni 20 anni 10 anni 15 anni vale di più ma non è un investimento è una cosa che è venuta a caso e delle cose che sono venute a caso che nessuno può prevedere è che poi nascono le bolle le speculazioni e che ci girano intorno allora sembra che gli orologi sono un investimento perché nascono le bolle le speculazioni speculazioni significa comprarlo oggi a 10 vendolo domani a 11 guadagnare già uno in un giorno questa è speculazione non è investimento l'investimento è a lungo medio termine luigi nebbia quale orologio consiglieresti come regalo per un uomo che va in pensione budget 2000 elegante vintage oro oppure nuovo e se nuovo quali modelli allora io se dovessi regalare un orologio a una persona che va in pensione non gli regalerei un vintage perché è un orologio usato mettiamo mettiamo papale papale è un orologio usato gli sto regalando un orologio usato a meno che questa persona non sia un appassionato di orologi abbia una collezione di vintage gigantesca gli manca quel pezzo lì e gli vai a regalare quel pezzo lì e mi lo fai contento sì ma se è uno che non è mediamente appassionato gli devi regalare un orologio nuovo che gli ricordi l'avvenimento e quando si parla di orologi commemorativi celebrativi per la laurea per la pensione a me viene in mente lungi ragazzi un lungi nuovo sotto i 2000 ci sarà quello te lo lascio scegliere a te però come marchio lungi fa sempre una bella figura proprio nei secoli dei secoli nei decenni della nostra italia che vanno avanti così roby 10 l'ho già sentito prima questo roby 10 perché sono più belli gli omega anni 2000 che quelli recenti questo tu parti fai una domanda partendo dall'assunto che sono più belli gli omega degli anni 2000 e che non è vero quindi decade completamente il senso della domanda perché sono più belli quelli recenti enrico bozzetto ciao davide se dovessi decidere uno solo tre due black bay 58 o acqua terra quale sceglieresti mi fai una domanda no lo dovresti sapere che orologi o io io ho l'acqua terra e non ho il black bay 58 quindi ho già scelto io l'acqua terra non ho il black bay 58 perché perché black bay 58 mi piace bello gli do il top tutto quello che vuoi ma non fa per me a me mi ricorda un po troppo la tradizione l'heritage di rolex declinata però nella sottocategoria di brand di serie b e quindi non lo prendo mi interessa per me e poi gli altri facciano quello che voglio rambo sonics perché ti atteggi da grande amante della vera musica rock quando sappiamo tutti che ti piace marco mengoni tu sei bugiardo menti sapendo di mentire perché io sono amante della musica metal nemmeno rock metal di marco mengoni non apprezzo nulla per me se non esistesse sarebbe di tutto di guadagnato per la musica l'unica cosa che apprezzo di marco mengoni che quando va al festival di san remo lo pagano e lui si mette gli omega speed master d'oro così noi vediamo un po di orologi fabio silvani se pensiamo a maison come brightling tagoyer o longin che producono stupendi orologi nonostante alcuni incassino calibri meccanici di fornitura perché non considerare di pari valore a questi ultimi le loro varianti al quarzo grazie davide traduco traduco praticamente questo qua dice siccome quei marchi lì utilizzano calibri di fornitura allora dobbiamo ottenere lo stesso valore anche quelli le loro versioni al quarzo perfetto se te sei contento così ti compri cosa ne so l'idro conquest al quarzo compratelo io preferisco gli orologi meccanici quindi non tengo in considerazione il tagoyer al quarzo o il longin al quarzo se c'è la versione meccanica o l'altro così il brightling al quarzo se c'è la versione meccanica no preferisco prendere la versione meccanica punto e basta tengo invece in considerazione al quarzo i quarzi laddove non esiste la controparte magari no meccanica oppure in quegli orologi come il prx che hanno magari un senso perché erano già andati al quarzo a quel tempo no insomma vanno un po valutate le situazioni non si può fare di tutta l'erba un fascio alessandro mariani hai un orologio che sia un modello o una referenza specifica ormai non più prodotto che vorresti rimettere in catalogo a questa mi mette un pochino mi spiazza diciamo così va bene ce l'ho il rolex oyster perpetual da 39 mm adesso farò quello 41 che poi non so nemmeno quante magari un po meno però quello da 39 mm quadrante bianco quadrante nero mi è sempre piaciuto proprio la semplicità fatta a persona e se lo rimettessero a catalogo magari eh cupio quale casio ti piace tutti i casio mi piacciono casio è l'unica casa casio casa tra le quattro giapponesi che non fa orologi meccanici fa tutti i orologi al quarzo digitali o con lancette o analogici eh mi piacciono tutti hanno tutti il loro un loro senso in questo caso è capito sono tutti al quarzo quindi mi piace il caso edifice ad esempio quello lì mi piace un bell'orologino che mi piace tanto oppure mi piace il classico quello con digitale l'fv191 come si chiama quello lì ma ce ne sono tanti di casietti che mi piacciono di solito vado su timex quando devo prendere un quarzetto così però è solamente un perché mi ci sono trovato anche un bel caso lo prenderei volentieri fabio sciarpelletti ciao davide vorrei un tuo parere sul marchio olex e ways esteticamente gli orologi sembrano molto belli ho fatto anche delle recensioni su questi olex e ways gli orologi sono veramente belli mi piacciono è un marchio che stimo mi piacciono proprio mi piacciono c'è l'amico piero e ogni volta che glielo vedo glielo vorrei rubare no una volta ogni tanto posso rubare io un orologio esteticamente sono belli e lavorano bene adesso incassano i calibri soprodo addirittura anche il newton della soprodo che è quello un pochino più pregiato bene bene l'unico problema che devi acquistare direttamente da loro questi punti perché il buon giacobo aveva provato a prendere la concessione ma ci sono degli impedimenti a livello proprio logistico di 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 ordini faticano stare dietro agli ordini non rispondo alle mail è difficile lavorare per i negozi con loro e non è la prima volta che lo sento dire mattia seven cosa ne pensi dei richard mill richard mill non mi piacciono mi pazzi proprio diciamo che mi fanno anche defecare possiamo dirlo tranquillamente l'aspetto estetico non fa per me poi che siano fatti bene di pregio di alta orologeria tutto quello che vuoi te però ve li comprate voi anzi non ve li comprate nemmeno voi perché non ci arrivate però non lo fanno per me non li voglio ma nemmeno quando fanno no gli omaggi no che peggio che peggio ma proprio mi piace esteticamente angelo michele siconolfi ciao davide visto che abbiamo gli stessi gusti musicali ed entrambi abbiamo un passato nella musica da musicisti se dovessi associare un orologio ad un ad ognuna delle seguenti band quale associeresti megadeth metallica slayer e antrax o allora i megadeth gli associerei oris perché megadeth praticamente è uno dei mustaim va per conto suo e oris è indipendente va per conto suo non fa parte di nessun gruppo poi ci siamo anche come come estetica da metallica longin perché il longin è un classico senza tempo e metallica ormai lo sono sono un classico senza tempo slayer slayer zin zin duri e puri duri e puro anche zin poi anche questo accento tedesco loro pur essendo californiani però qualcosa di teutonico ce l'hanno sono abbastanza duri antrax antrax gli associerei fortis perché come loro sono di valore ma sottovalutati ecco anche gli antrax sono un po sottovalutati però originari eh ti è piaciuta Antonio Bianchi ciao Davide mi dici un tuo orologio dei sogni avendo budget illimitato che sfizio ti toglieresti il discorso budget illimitato è proprio completamente al di fuori del della mente umana cioè un budget illimitato cosa vuol dire probabilmente vuol dire che ci ha illimitato su ogni cosa non non è possibile preferisco concentrarmi su quelle cose che sono abbastanza a portata degli esseri umani dai e l'orologio dei sogni mi cambia cambia col tempo tempo fa era il Vacheron Costantino Versys per esempio no al momento adesso è il Patek Philippe Calatrava che ha catalogo adesso da 40 mm oro bianco piccoli secondi quello lì quello lì adesso è l'orologio dei miei sogni ma non ci vuole un budget illimitato 28.000 costa 30 oh io di lì non ci arrivo uguale però magari un sogno Andrea Borgogno che ti pare del nuovo Mido 39 con il calibro 72 oh il nuovo Mido Oceanstar da 39 mm sì l'avevo visto a marzo in anteprima l'ho proprio avuto per le mani ed è uscito in questi giorni il calibro 72 è una novità perché fino a fino a oggi Mido incassava i calibri derivati dal 28-24 dall'ETA 28-24 in questo caso il calibro 72 deriva dal dall'ETA 28-92 è più pregiato quindi si va ad elevare Mido rispetto ai soliti per esempio Tissou Hamilton come un calibro che è derivato dal 28-92 è tanta roba anche perché è più sottile infatti questi Mido Oceanstar da 39 sono spessi 10.5 appena riesco ne porto uno sul canale dai Matteo passa l'acqua ciao Longin Zulu Time o Tudor Black Bay 58 e perché non sono un estimatore di entrambi i modelli nel senso mi piacciono tutti e due ma non vorrei nessuno dei due in collezione non mi interessa al momento Black Bay 58 ho detto prima perché non lo vorrei quindi a questo punto ti dico che vorrei il Longin Zulu Time Achille Cremonini tornassi indietro torneresti a sacrificare il meraviglioso Constellation per prendere il Santos si tratta di 2-3 mesi fa dammi tempo di pentirmi magari fra un anno o due chiedimelo dopo tre mesi non sono ancora pentito si il Santos mi piace è proprio un orologio che idosso con piacere e ho sacrificato il Constellation ma ci sta dai Delta Integrale 77 cosa ne pensi del Tagoyer Crono Glass Box bellissimo mi piace è proprio uno di quei cronografi con il calibro 0.2 di manifattura che mi piace con quei bei sfortunati sulla versione panda diciamo quella lì contatori e 3 6 9 ma proprio il vetro che fa Glass Box che esce fuori calibro di manifattura ho già detto perfetto è bello il cronografo che può essere il cronografo di casa Tagoyer da mettere in collezione uno vuole un cronografo per ogni marchio no Breitling Cronomat Zenit e Premier Rolex Daytona Omega Speedmaster quando arrivi a Tagoyer dici Monaco siccome il Monaco almeno mi garba tantissimo forse è un bel cronografo di questo tipo Igor Butti Orris mollerà definitivamente i calibri di fornitura per la propria manifattura parecchie persone saranno disposte a spendere quasi il doppio per un Orris con calibro di manifattura non lo so io se li mollerà definitivamente sento voci che piano piano utilizzeranno solo i loro calibri magari anche questione di capacità produttiva no riuscire a utilizzare solo i propri calibri significa aumentare la produzione per dismettere poi sellita non lo so le persone che saranno disposte a spendere quasi il doppio se una casa ti dimostra di essere completamente autonoma orris l'ho detto prima è indipendente non fa parte di nessun gruppo e realizza calibri improprio e te li mette dentro o prima o poi devi accettare la casa per i prezzi che fa cioè si si è un riposizionamento vero e proprio non vedo perché non dovrebbe poi sarà mercato a dirlo a noi cosa ce ne viene mirko beehive oggi dopo molta strada fatta cosa ti colpisce in un orologio cosa ti attrae le stesse cose che mi attraevano 5 10 anni fa non è che cambia molto io sono per le per la bellezza estetica la semplicità l'essenzialità l'eleganza per queste cose qua anche se nel tempo devo dire che poi si cambia un po i gusti perché i panerai sono abbastanza sfrontati non mi piacevano adesso mi piacciono oppure faccio un esempio mai una volta mi sarebbe piaciuto il norkane wild wine quello particolare con la cassa in norte che mi piace una volta non mi sarebbe piaciuto insomma sono un pochino più aperto ai design innovativi adesso possiamo dire così nonostante io prediligo ancora quelli classici lbb quando hai aperto il canale su youtube pensavi che avresti ottenuto il successo che hai oggi come numero di followers e visualizzazioni no non avrei mai pensato però il tutto è accaduto molto lentamente cioè la crescita è lenta non è esponenziale come può accadere in altri ambiti cosa ne so uno che parla di street food oppure di cavolate magari c'ha il botto di visualizzare le azioni ed iscritti e va subito su l'orologeria è una nicchia quindi è tutto salito molto lentamente nel tempo e non fai nemmeno in tempo ad accorgerti che sei passato da 5.000 a 50.000 ci vuole tempo tutto piano piano quindi non è cambiato nulla c'ho sempre la stessa passione di prima Segovia Andres cosa ne pensi dei sector anni 90 che montavano dei calibri di tutto rispetto tipo ETA 77-50 ecco sembri io sempre un po' denigrati questi sector questi brel così degli anni 90 più che altro anche per una questione estetica più che altro per quello che rappresentano oggi sector e bra che sono un pochino decaduti beh secondo me devono essere rivalutati ma infatti quando qualcuno mi chiede un cronografo di acquistare un cronografo a buon prezzo io dico sempre di andare su ebay e mettere la scritta sector ETA 77-50 braille ETA 77-50 philip watch quindi ti trovi degli orologi validi con un calibro valido ad un prezzo ancora decente usati di quegli anni lì 90-2000 quindi mi ripropongo di rivalutarli un pochino Danny Iacoviello ciao Davide c'è un orologio di marca italiana che ti piace? eh sì ce ne sono molti orologi Calamai chiaramente e K-Watch cioè quelli che vedete passare poi alle mano quelli che vedete passare sul mio canale perché mi piacciono eh in linea generale perché mi piacciono perlomeno quei modelli che presento quindi basta andare a vedere poi non so Bulgari e Panerai possono essere considerati italiani no però quelli mi piacciono ma ce ne sono tanti ecco noi tra adesso non mi vengono in mente sembra quasi che voglio fare lo sgarbo a qualcuno hai capito? ma ce ne sono tanti Federico Baccinetti meglio un Daniel Wellington oro o un Maserati verdognolo per fare un figurone con la suocera? io credo che tu non possa fare un figurone in nessun caso hai visto la domanda? mi sa che sei uno di quelli che farà una pessima figura Franz Com secondo te per quale arcano motivo le case orologiere sono resti a fare bracciali interamente satinati e non vedo perché dovrebbero farli interamente satinati cioè a me piacciono anche i bracciali lucidi quando fanno il lucicchio che c'è la maglia lucida che ti dà il senso di pregio a me piace cioè dove sta scritto che devono essere per forza satinati perché devono essere tool watch sì è logico che quando li vedo anch'io li li elogio ma come elogio quelli con la maglia centrale lucida oppure col giubilì lucido sono due cose differenti ma entrambe sono piacevoli da indossare Simone Pasquali ciao Davide non trovi ci sia un po' di stanca nel proporre idee nuove da parte delle case? quale ti sembra la casa che più sta osando? grazie e buona serata un po' di stanca non lo so il problema è che quando ci lamentiamo che c'è la stanca poi quando qualcuno propone qualcosa di nuovo di particolare, di differente e tutti a dire che schifo io sono il primo quegli orologi magari che sembrano il lucchetto della bicicletta non li apprezziamo poi dopo non li fanno più non lamentiamoci a me non mi interessa la stanca a me mi piacciono gli orologi classici, normali poi ti ripeto il Wild One di North Kane mi piace perché è strano è un po' strano vogliamo premiarlo una casa che è nata da zero e subito ti butta fuori il suo poi quella che osano di più quali sono? non lo so mi vengono in mente certi microbrand c'è un microbrand in Svizzera Code 41 mi sembra si chiami loro fanno orologi abbastanza innovativi per esempio però poi non li compra nessuno se non li compriamo io non li compro a me non mi interessa Spirit 95 cosa ti piace e non del Citizen Pro Master Marine Citizen Pro Master Marine mi piace tutto bello orologio mi piace tutto lo vorrei anche in collezione l'unica cosa che non è un impedimento d'acquisto però a me non mi fa impazzire non mi piace sono le sfere stile Mercedes se le avessero messe proprio anche come il Pro Master normale degli anni 90 io sarei stato contento oppure un'altra forma belle matitone no Alasin quelle Mercedes Ivan Foschi quale calibro preferisci tra il 4130 Rolex 3313 coaxial Omega 9300 coaxial Omega e 3600 Zenit ora qua è come dire cosa preferisci quale motore preferisci di una macchina cioè non sono talmente così tecnico da decidere di comprare un orologio in base al calibro cioè non mi interessa l'ho già detto prima compro l'orologio perché mi piace e poi che ci sia anche dentro un bel calibro quindi sono 4 calibri validi se sono dentro un bello orologio ne prendo uno uno di questi senza problemi tra l'altro il 3313 coaxial è fuori produzione cioè non ci sono orologi a momento con il 3313 mentre degli altri si boh cosa vogliamo dire il 3600 di Zenit preferisco il calibro 400 36.000 alternanze sì ma senza i secondi al decimo al decimo di secondo che è un po' troppo veloce però io prendo lo Zenit perché se voglio un calibro a 36.000 alternanze prendo lo Zenit voglio un calibro un orologio robusto prendo il 4130 di Rolex che non si sbaglia è robusto e preciso voglio un calibro con la ruota a colonne moderno con lo scappamento coaxiale un piglio 9300 coaxial di Omega oppure non disegno neppure il 3313 che lo trovi sui Brodarro gli Speedmaster Brodarro degli anni 2000 è bello ma ripende l'orologio che mi interessa non mi interessa il calibro che c'è dietro no Marco Bosso l'ultimo orologio che ti ha fatto emozionare perché l'ultimo orologio che mi ha fatto emozionare è appunto un caso al quarto che ho regalato a mio padre qualche anno fa e attualmente si trova all'ospedale mi ha detto portalo a casa perché ho paura che me lo rubano fai comprare dalla mamma un orologio dai cinesi da 10 euro io non sono stato a farglielo comprare da mia mamma ho preso il caso al quarto l'ho portato a casa e a lui gli ho riportato un Timex al quarto così l'ho fatto contento caso al quarto visto un semplice orologino al quarto può fare emozionare ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua le domande sono finute mi avete triggerato e così è andata vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'ho Grazie a tutti.